Sabato pomeriggio, riflettori tutti puntati sulla Inter-Carena di Hamburgo, dove Lecce Svao ospita la capolista di Bundesliga, il Bayern Monaco. La corazzata bavarese sta dominando il campionato, staccando già la concorrenza. Il tecnico ansiatico Fink sa che non sarà una partita affatto semplice. Siamo migliorando, abbiamo lavorato molto per far bene in campionato. Tutte le altre squadre sanno che non abbiamo bisogno di creare mille palle gol per segnare. Siamo pericolosi, specialmente dalle fasce, conzone, baster o chiunque giochi. Abbiamo anche giocatori in grado di fare il passaggio finale, quello che ci mancava l'anno scorso. Per questo affronteremo il Bayern a viso aperto. Abbiamo già battuto delle grandi, sicuramente non siamo i favoriti, tutti si aspettano che il Bayern vinca. Quindi insomma, non abbiamo niente da perdere. Siamo ovviamente, ovviamente, con la partecipazione, perché tutti si pensano che il HSV contro il Bayern si perdono. E noi possiamo di essere liberi. Il Bayern arriverà ad Hamburgo con il dente avvelenato dopo la prima sconfitta stagionale. Quando i bavaresi arrivano in città non è mai una partita come tutte le altre. Le cose non sono affatte diverse sulle rive dell'Elba. Vediamo che ne pensa Rafa van der Parti. Insomma, nella Bundesliga, per tutte le squadre, non solo per l'Hamburgo, una partita contro il Bayern non è mai come le altre. Chiaramente vorremmo provare a vincere. Il Bayern questa stagione è partito davvero fortissimo. Sono molto competitivi. Per riuscire a portare a casa i tre punti dovremmo davvero fare la partita della vita, non c'è dubbio. E noi dobbiamo essere top per ottenere la partita per il gioco. Spettatore più che interessato al duello sul mare del nord sarà il Borussia, impegnato in una complicata rincorsa. I nove punti da recuperare al Bayern sono già parecchi, ma l'avversario di sabato è di quello da prendere con le molle. Lo Stoccard è molto migliorato col tecnico Bruno Labbadia, sempre più sicuro al timone. Chi ha visto la partita dello Stoccard a ieri sa che sono in gran forma. Era più che chiaro. È bello vedere una squadra che sta lavorando bene col suo allenatore per uscire da un periodo sfortunato. Alla fine lasciare Labbadia in panchina è stata una buona mossa. Meno male che lo Stoccard non si è fatto convincere dalla critica e dal pubblico, che invece voleva che lo allontanassero. Lo Schalke invece va in trasferta ad Offenheim. La piccola squadra che aveva stupito molti non è più la stessa di un paio d'anni fa. Stevens sa che i Konigsblau non possono perdere assolutamente il passo. L'Offenheim è molto forte in attacco, vanno tutti avanti. Prima di tutto noi dovremo far bene in difesa, mostrare quello di cui siamo capaci. Penso che la nostra squadra stia bene in questo momento. Mancano solo Metzelder e Höger. Avremo bisogno di tutti gli effettivi e di giocare al meglio per riuscire a far bene con l'Offenheim e vincere. Avremo bisogno di tutti gli effettivi e ci sono anche interessati.